Allora, eccoci qua. Buongiorno Sara. Ciao Francesca. Allora, perfetto ciao Francesca perché iniziamo subito con le regole del gioco. Prima regola ci si dà del tu e questo non è difficile fra noi. La seconda regola è che siamo entrambe consapevoli del ruolo, nel senso che io sono un genitore, rappresento in questo momento la fondazione Fed Stroke, quindi una fondazione che si occupa di bambini con un paralisi cerebrale infantile e tu sei un medico quindi ci racconterai il tutto. Però ecco, questo per chiarire esattamente i ruoli. Dici Sara una breve presentazione su di te. Io ti ho presentato come neuropsichiatra infantile, è corretto? È giusto o no? Esattamente, io mi sono specializzata da poco, lavoro al Gaslini, sono neuropsichiatra infantile e sto facendo un dottorato di ricerca lì a Genova e mi occupo di prematuri, di neurosviluppo e anche di bambini che hanno avuto un stroke. Adoro tutto ciò che riguarda l'aspetto mente-corpo e cerco di integrare questa mia passione anche nel mio lavoro. Ho 32 anni, 33 quasi. E questo momento si è collegata dal... Adesso in questo preciso istante lavoro da casa e lavoro in Francia dove prima dell'epidemia avevo una collaborazione una volta a settimana con un ospedale psichiatrico per adolescenti e bambini e quindi insomma ho una doppia visione sia quella italiana che quella francese della situazione attuale. Benissimo, infatti questo era l'altro elemento per contestualizzare la nostra videointervista di oggi. Il 24 marzo del 2020 siamo in pieno lockdown, quindi in piena emergenza Covid-19, quindi questa epidemia che ha fatto sì che tutte le famiglie in Italia fossero costrette ad un periodo di segregazione, chiamiamola in casa o comunque distanziamento sociale e che appunto tanto più le famiglie con vulnerabilità, con fragilità particolari, quali sono le famiglie che appartengono alla nostra rete, che stanno vivendo questi giorni con diciamo tanti dubbi o tanti interrogativi sia su come affrontare il momento presente sia anche interrogativi e dubbi rivolti al futuro prossimo. Quindi quando questa epidemia si concluderà e ci auguriamo tutti a più presto che cosa succederà, quindi come saremo cambiati noi, come saranno cambiati i nostri bambini. Quindi la prima domanda che volevamo farti, abbiamo condiviso già con te i risultati di quella che è un'analisi dei bisogni delle nostre famiglie, che abbiamo fatto somministrando un sondaggio e sono emersi molti aspetti pratici, operativi, perché anche di questo hanno bisogno le famiglie oggi, ma anche tanti aspetti legati ai fattori di stress, a quanto le famiglie vivano un po' appunto questa situazione di dubbio, di incertezza. Quindi appunto volevamo chiederti di fare un punto in generale se vuoi partendo prima dalla situazione del gaslini o partendo da quelle che possono essere le indicazioni che vengono dall'ospedale che conosci meglio, anche in relazione a quelle che sono gli interventi che vengono chiamati differibili nel tempo. Quindi se oggi una famiglia si dovesse trovare ad affrontare i primi segnali di uno stroke in un bambino o una crisi epilettica, in gaslini, come sta seguendo queste emergenze? Allora, va bene. Dunque, per quanto riguarda quello che mi hai chiesto, innanzitutto, pur comunque essendoci tutte sull'ignoto o comunque su cosa ci sarà anche dopo questo momento di crisi, la cosa più importante che tutte le famiglie devono sapere è che la gestione delle emergenze è garantita per qualsiasi ospedale e quindi è garantita anche in gaslini. Per quanto riguarda, nello specifico, posto che appunto i bambini, e quindi si sa che probabilmente in età pediatrica, in età evolutiva, il virus è meno virulento e quindi dà meno sintomi e dà meno malattia, in gaslini comunque è stato deciso di chiudere tutti i percorsi di cura cosiddetti differibili, come dicevi tu. Dove differibile in medicina sono tutta una serie di attività, soprattutto nella sanità italiana, che noi siamo abituati, diciamo, ad avere molto più come fruizione a portata di mano, quindi vuol dire il medico di medicina generale è un call anche per la visita dermatologica, un mese, diciamo tre mesi dopo, piuttosto che le visite programmate che già ci sembravano lontane, se programmiamo l'oculista con la moto a un anno di distanza, tutto questo tipo di visite sono state azzerate per permettere appunto di poter gestire esattamente le emergenze, quindi vuol dire che tutto ciò che riguarda i primi sintomi di uno stroke sono considerati un'emergenza, quindi così come la prima crisi epilettica o una crisi epilettica che non si arresta con le normali misure di contenimento farmacologiche, quindi con il diazepam endorettale o per bocca, il microbioma endorettale oppure il buccolano per bocca e quindi tutti quei percorsi di cura sono comunque garantiti e il fatto di sospendere le attività differibili è proprio per garantire che questo tipo di percorsi siano ancora efficienti allo stesso modo, perché ad esempio in Gazini sono stati creati due percorsi ospedali diversi, uno covid e uno non covid, quindi c'è una parte di ospedale che accoglie famiglie di malati positivi al virus e una parte che non è infetta e che invece ha un percorso diciamo comunque ha un percorso lo stesso precauzionale, quindi com'è di questo periodo però in cui possano essere trattati pazienti suppostamente certamente infetti, quindi riguardo all'emergenza anche il Gazini si è organizzato in modo tale da poter consentire a tutte le emergenze di essere veramente tali e per questo motivo tutto il resto è stato sospeso e riferito. Assolutamente sì, chiaro, oggi le nostre famiglie che sono con noi da più tempo erano abituate un po' a questa ricorrenza delle visite periodiche presso l'ambulatorio stroke e quindi tu giustamente ci hai detto che queste visite di controllo al momento sono state rimandate. Sì, la cosa che stiamo cercando di fare è appunto rimandare questo genere di visite anche per mettere in sicurezza le famiglie perché qualsiasi tipo di spostamento che sia anche un semplice spostamento per andare a fare la spesa per cui immaginiamoci quello di magari uscire di casa e andare oltre regione anche solo con la macchina a fare la benzina da un'altra parte, fermarsi, parcheggiare, toccare anche dei soldi, così sono tutti comunque atti che compriamo quotidianamente senza preoccuparci particolarmente della nostra igiene personale, della pulizia delle mani del fatto che non ci si deve mettere le dita negli occhi eccetera eccetera però adesso ancora di più soprattutto per famiglie un po' più fragili come sono quelle di famiglie di bambini o ragazzi che hanno avuto una storia di stroke è importante che siano in sicurezza per cui viceversa l'ambulatorio stroke, dei hospital stroke in questo momento è sospeso anche per questo motivo qua a posto che in ogni caso esistono sempre dei mezzi di comunicazione, di scambio fra di noi che sono le mail perché c'è la mail del centro stroke che è stroke at gaslini.org e poi anche che il gaslini ha messo a disposizione per gli utenti una pagina che si chiama ciao come stai quindi se voi volete collegarvi c'è la possibilità di collegarsi al sito www.gaslini.org ciao come stai dove ci sono vari tipi di supporto alle famiglie che non sono supporti strettamente tecnici, medici come può essere quello della mail del fight the stroke ma sono supporti un po' più volti a gestire questo cambiamento che sta avvenendo nelle settimane odierne insomma di queste settimane e quindi diciamo che la nostra risposta come ospedale è questa e abbiamo anche attivato un call center, un servizio al quale poterci contattare per avere un po' di supporto e di aiuto anche sulla gestione di cose un po' più quotidiane che esegnano dal contatto col singolo clinico ma proprio che magari servano anche un po' ad avere la possibilità di parlare con qualcuno che sia un personale qualificato in questo specifico caso sono psicologi e poi probabilmente ci saranno anche dei neuropsichiatri per gestire il momento odierno che sicuramente ha delle peculiarità perché siamo tutti usuali per cui non si va più a lavoro ma si va a lavorare a casa, c'è chi lavora di più da casa che a lavoro, c'è chi è costretto ad andare a lavoro penso agli ufficiali, a tutto il personale delle forze dell'ordine oltre che ai sanitari che sono ovviamente coinvolti in prima linea e c'è chi invece ha smesso di lavorare completamente quindi sono tante abitudini che sicuramente già solo nel loro cambiare possono generare anche situazioni di stress. È verissimo quello che dici perché infatti è quello che abbiamo notato noi nonostante appunto le nostre famiglie paradossalmente fossero un po' già abituate a gestire delle situazioni di crisi, a stare in allerta o ad avere degli stili di vita molto magari più stanziali rispetto a famiglie che hanno meno problemi dal punto di vista della salute però anche questo ha cambiato banalmente anche solo le routine, quindi famiglie che intendo il genitore, il caregiver, il bambino che sono abituate tutte le settimane ad andare a fare riabilitazione di tipo motorio, di tipo cognitivo, logopedico, quindi tutta questa routine è un po' cambiata, quindi è un momento in cui ci si interroga sull'effetto che questa chiusura, questo periodo senza terapia possa poi generare sul lungo termine ma poi ci si interroga anche sulle cose di tutti i giorni, quindi come hai visto anche tu dall'analisi del bisogno e questo scenario vorrei anche soltanto qualcuno che mi ascoltasse, vorrei qualcuno che mi aiutasse a gestire i compiti da casa, che mi desse uno spazio per far uscire i bambini fuori. Quindi noi volevamo adesso parlare con te dopo questa apertura più incentrata sui gaslini, volevamo capire con te quali possono essere i segnali dello stress che magari noi facciamo fatica a leggere sia nell'adulto, quindi nel caregiver che sappiamo che per noi ha un ruolo fondamentale, che nel bambino. Magari ci sono dei segnali sommersi che sono anche solo la voglia di non fare qualcosa, l'apatia, non dormire, che noi attribuiamo a qualche causa specifica e magari sono solo frutto di questo periodo. Ok, allora, dunque, posto che poi ognuno ha una soglia diversa di tolleranza al cambiamento e che appunto, come hai detto tu, è vero che le famiglie di bambini con una storia di stroke sono già delle famiglie che sono messe alla prova, quindi probabilmente hanno un grado di resilienza. Esatto, stavo usando la stessa parola, di resilienza. Poi volevo dirti che in realtà io non ti vedo come schermo, ma ti sento... Ah, mi spiace cosa che non mi vedi, aspetta che... Beh, comunque continuo, appunto hanno un grado di resilienza estremamente maggiore rispetto a una famiglia contemporanea che non ha ancora affrontato grosse... o comunque non si può dire non ha affrontato grosse difficoltà, però sicuramente avere un bimbo con una problematica del genere ti mette già molto alla prova e quindi probabilmente si ha anche la possibilità di avere già delle strategie che pian piano si è coltivati nel corso degli anni. Prima di pensare un pochettino a come arginare appunto lo stress, bisogna anche imparare a capirlo e sicuramente in questo periodo le cose che potrebbero succedere a molte persone sono, come hai menzionato tu, il cambiamento delle abitudini del sonno, ovvero soprattutto l'ansia, che è quel genere di risposta che il corpo dà in situazione di stress prolungato anche dopo che lo stress si è stilato, in questo caso diciamo che... o comunque si è consolidato, no? Per cui insomma in questo caso noi siamo ormai... le famiglie sono a casa almeno da due o tre settimane per la maggior parte, quindi è possibile che in alcuni casi si potrebbe considerare che già un cambiamento è in parte avvenuto e in realtà comunque il continuare ad avere informazioni riguardo all'epidemia, alla pandemia, informarsi e comunque parlare dell'argomento è una cosa che in realtà dovrebbe essere un po' evitata perché è una di quelle situazioni che appunto perpetuano lo stress e quindi possono generare anche situazioni proprio d'ansia. e quindi il primo consiglio è, prima di parlare dei sintomi dello stress, è cercare di non informarsi troppo a riguardo della pandemia, ma informarsi il giusto, cioè quello che ci consente di attenerci alle regole che ci vengono chieste, che in questo momento sono adeguate alla situazione odierna, quindi quello di stare a casa. e per quanto riguarda i sintomi dello stress appunto spesso e volentieri quello che può succedere è avere difficoltà per esempio ad andare a dormire, quindi avere un livello di attività, di allerta molto elevato anche la sera, avere un risonno non riposato, avere dei risvegli notturni frequenti, svegliarsi prima della sveglia, se ci mettono a svegliarsi prima o dormire un numero di ore minore, e anche l'appetito, nel senso che spesso e volentieri la risposta è la fame, quindi spesso si ha più voglia di mangiare e soprattutto voglia di mangiare carboidrati semplici, quindi zuccheri o anche pasta e quindi diciamo che è possibile avere un aumento della fame perché questo è una risposta fisiologica che il corpo dà in situazioni di allarmi e quindi c'è tutto un sistema ormonale che viene messo in atto appunto dei cosiddetti ormoni dello stress che ci fa dormire di meno, mangiare di meno, essere più reattivi e che può essere anche da un lato positivo, nel senso che potrebbe renderci un po' più produttivi sul lavoro ma che può, se non si riesce a tornare bene, anche portare a scarsa concentrazione. E nei bambini questo è molto analogo, ma diciamo che vengono fatte richieste più dello specifico magari di dormire non da soli, possono avere più incomi notturni, il gioco potrebbe non essere molto fantasioso ma tendere a ripetersi molto di più, quindi questi sono segni che in questo momento se vedete nei vostri bambini o come incrementare nei vostri bambini è molto probabile che possano essere ricondotti a questo periodo. Vuoi spiegare meglio Sara questa cosa del gioco ripetuto? Che questa è una domanda tipica dei genitori, soprattutto quando i bimbi sono ancora piccoli e non hanno molti canali di comunicazione tendono ad avere un po' questi atteggiamenti e il genitore è portato un po' a confonderli con magari esiti dello stroco, di altri danni che ha avuto il cervello, però in realtà questo è anche un meccanismo di difesa, anche in situazioni di stress magari il bambino tende ad avere questa ripetitività nel gioco? Assolutamente sì, poi bisognerebbe parlare del caso singolo, nel senso che ovviamente con stroke si intende una enorme categoria di situazioni, di condizioni che possono dare delle condizioni molto lievi e quindi del tutto asintomatiche normali a molto severe, quindi questo è un discorso molto in generale. Per quanto riguarda appunto quello che mi hai chiesto tu, nei bambini soprattutto che hanno avuto esiti di stroke in età molto precoce, quindi dai 0 ai 3 anni, questa osservazione da parte del genitore, a prescindere dal momento storico, è molto importante per i medici, per i pediatri di famiglia che magari sono i primi che vengono a contatto con i genitori o i terapisti se qualcuno è già in terapia o il neuropsichiatra che però essendo noi pochi alla fine non sempre siamo i primi ad essere interpellati al riguardo, è sicuramente una cosa da attenzionare dal genitore al medico perché è qualcosa su cui si può lavorare insieme proprio per evitare un'ulteriore chiusura del bambino. Questo tipo di chiusura è infatti, diciamo, il gioco ripetitivo è uno dei tipici sintomi di chiusura dei bambini, quindi anche in questo caso, quindi in questo momento storico, vedere che i nostri bimbi tendono a giocare più da soli, fare dei giochi ripetitivi con le costruzioni, con le macchine, far andare avanti e indietro, è il momento in cui ci deve far accendere un campanello d'allarme, cercare di respirare profondamente e provare a concentrarci un po' cercando di distrarre da quello che stanno facendo e provare a coinvolgere un'attività che sia o a due, almeno a due o comunque che li distolga un pochettino dal gioco, diciamo, dall'azione ripetuta che fanno, che è una sorta di ruminare in fondo. Che è qualcosa che dà sicurezza, no? È qualcosa che dici... Diciamo che ora più che mai, esatto, è meglio cercare di farlo uscire da questa falsa zona di comfort, quindi... Altre raccomandazioni che ti vengono in mente o altri sintomi che magari facciamo fatica a leggere? Non so, penso alla pelle, penso a... Assolutamente sì, poi magari parliamo anche un po' di cosa possiamo fare per... Ma sì, lo stress diciamo, lo stress prolungato ha delle ripercussioni anche proprio organiche per cui in corpo circola un ormone che è il cortisolo, che è un ormone che noi produciamo endogenamente che è molto simile al cortisone, quello in compresse che a volte prendiamo o diamo ai nostri figli per le adenotonsiditi molto forti. Questo ormone ha tantissimi aspetti positivi perché ci rende attivi, pronti alla risposta, ma secreto in cronico, quindi secreto per molto tempo di fila, porta in sovraccarico il nostro sistema corporeo. Per cui, per esempio, appunto, come hai citato tu, la pelle che è uno dei nostri primi sistemi, organi che ci consente di comunicare con l'esterno è sicuramente uno degli organi che visivamente è più colpito perché tutte le ghiandole che sono contenute nella pelle e che servono, diciamo, ad aiutare la pelle ad essere barriera con l'esterno, vengono messe a lavorare il triplo, direi, per dirle in parole molto semplici e quindi vengono messi in atto tutta una serie di meccanismi e di cambiamenti che ci rendono molto più suscettibili a sudare, anche in condizioni magari non particolarmente né di sforzo, né di calore, ci danno un odore più cattivo, questo perché anche a livello animale gli animali sono, per esempio, le puzzole, puzzano di più quando vogliono allontanare i predatori e sia comunque, c'è un aumento della secchezza della pelle perché la pelle si fa più dura proprio per combattere, diciamo, per affrontare gli agenti stressogeni esterni. Quindi è come se tornassimo un po' tutti uomini primitivi, sto scendo fuori il nostro lato più animale perché poi alla fine sai che poi c'è la teoria del fatto che l'uomo si è evoluto dallo scimpanzé probabilmente perché ha iniziato a mangiare carne cotta e quindi si è sviluppato da tutta la parte del lobo frontale deliputata alla bocca e quindi pian pianino abbiamo iniziato a parlare però ricordiamoci che siamo tutti scimmiali, per cui prima di tutto lavoro il cervello sotto. Giustamente, meccanismo di difesa. Oltre la pelle anche per esempio il sistema gastroenterico, quindi è molto più facile avere gonfiore all'addome, quindi aria nella pancia, anche meteorismo, così anche reflusso gastroesofageo per cui avere la sensazione di avere bruciore alla gola che è proprio il reflusso che dallo stomaco va all'esofago che è questo tubo che normalmente spinge il cibo verso il basso però in situazioni di stress lo stomaco lavora di più per essere libero dal cibo e quindi rendere il corpo più attivo e questo genera proprio un reflusso di succhi gastrici anche in esofago e possono arrivare fino in gola e così anche i dolori al petto che possono anche essere scambiati per dolori elettrosternali cardiaci ma che in bambini o in adulti sotto i 40 anni, insomma sani, senza uso di sostanze particolari o comunque in salute e non ipertesi sono molto più frequentemente sintomi d'ansia così come la sensazione di un corpo estraneo in gola quindi sono tutte sensazioni fisiche che noi, somatizzazioni che noi percepiamo Franci mi senti perché non ho più Sì, 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 assolutamente Sono tutte sensazioni che noi percepiamo e che in realtà sono da attribuirsi a sintomi da stress acuto e così ce li hanno anche i bambini per cui è possibile che i vostri bambini in questo periodo siano molto selettivi con l'alimentazione che tendano a mangiare molto di meno in maniera più disordinata che magari abbiano mangiato due piatti di pasta al pomodoro che non mangerebbero nient'altro però prima delle 4 vi chiedono già di fare merenda Magari anche i ritmi veglia-sonno mi viene in mente, sono un po' diversi perché sono cambiate le abitudini della famiglia i bambini non si devono svegliare presto per andare a scuola al mattino e quindi è possibile che sia un po' alterato questo equilibrio, questa routine Assolutamente sì, anche questo magari tendono a non addormentarsi la sera magari fanno fatica e poi rimangono a letto fino alle 11 è possibile anche perché lo stress sincronico può portare anche dei sintomi di tipo depressivo quindi difficoltà a concentrarsi scarsa voglia di fare le cose anche di alzarsi dal letto di lavarsi di avere voglia proprio quella spinta che poi ti muove il motore della nostra giornata è un'altra motivazione a fare qualcosa diciamo anche per noi quindi potrebbero esserci anche diverse fasi noi qui su Milano ad esempio lo stiamo vivendo da quasi un mese direi quindi è possibile che si stiano alternando anche queste diverse fasi anche di organizzazione interna prima c'è stata anche la novità del dire viviamo insieme come se fosse una cosa che prima non si faceva o si faceva solo nel weekend invece adesso è diventata di nuovo anche questa una routine è una nuova routine ed è un cambiamento comunque il mio capo mi ha fatto ascoltare un audio che gira adesso sui vari chat di whatsapp e dice ma oggi sono stato a casa tutto il giorno con la mia famiglia devo dire che in effetti sono brave persone è vero uno scopre anche perché nello stile di vita che hanno molte famiglie che vivono in grandi centri in grandi città metropolitane ma anche una città di provincia c'è un po' l'abitudine a vedere i bambini non nella pausa pranzo ma quindi vederli nel pomeriggio tarda serata vederli al mattino e poi in tarda serata quindi l'idea di ricostruirsi insieme è anche una serie di attività per tenere impegnati i bambini è qualcosa che genera stress credo sia nell'adulto che si deve gestire anche una giornata organizzata in maniera diversa in cui gli viene richiesta un'attenzione immagino che adesso chiudono tutte le fabbriche credo da domani però insomma prima appunto genitori che lavorano a casa è smart working la tata non c'è e comunque il bimbo a casa quindi magari spazi ridotti quindi sicuramente sono cose da tenere in considerazione scusa per allacciarmi al tuo discorso assolutamente sì dici però Sara ci hai raccontato quello che ci può succedere come lo possiamo leggere dici quello che possiamo fare adesso allora innanzitutto non lasciarsi prendere dal panico ok quindi non lasciarsi prendere dal panico significa che come dicevo prima lo stress è generato spesso e volentieri da situazioni di allarmi ok quindi sicuramente nella nostra vita quotidiana ci sono persone poi che sono più suscettibili meno suscettibili allo stress ci sono persone che magari hanno già fatto esperienza di situazioni stressanti come per esempio i genitori di bambini con stroke quindi magari hanno più hanno un livello di soia più alto però allo stesso tempo magari sono già anche molto ammaccate e quindi sicuramente in questo l'ignoto di non sapere quanto durerà questa situazione non capire bene di che cosa si stia parlando perché diciamo che fino a qualche settimana fa ancora non eravamo anche neanche noi medici probabilmente eravamo così consapevoli di quello che stanno arrivando perché diciamo le precedenti epidemie che sono arrivate dalla Cina sono state un po' delle bufale montate abbastanza dai media per cui le varie aviari asuina insomma quindi la MERS la SARS sono cose che ci hanno toccato poco e quindi questa è la prima volta in cui siamo chiamati un po' una coscienza collettiva quindi non farsi prendere al panico attenersi alle regole e cercare di tra queste regole fare un mantra di 4 o 5 cose che ci devono essere un po' di aiuto tutti i giorni ovvero innanzitutto mantenere delle abitudini rutinarie che vuol dire la sopravvivenza mangiare, bere, dormire sono primari quindi queste tre cose non devono mancare mai e in qualsiasi situazione bisogna cercare di stabilire questo quindi se siete dei genitori che sono 3-4 settimane che non andate a dormire uno perché pensate al lavoro perché siete preoccupati perché magari non riuscite a gestirlo adesso con la crisi se siete preoccupati o semplicemente perché di giorno devi gestire il bambino e quindi di notte lavori magari esattamente o di notte lavori o comunque senti di essere un po' sovrastato alla situazione hai una persona cara che potrebbe essere vulnerabile al virus piuttosto che hai qualcuno ricoverato hai qualcuno con tampone positivo questo è il momento in cui se sono più di 3 settimane che non dormi di cercare di attuare dei diritti del sonno piuttosto assumere della melatonina che è un è un prodotto che si può comprare in farmacia senza prescrizione medica a parte quella ricombinante e che è ampiamente usato con scarsi effetti se non nulli effetti collaterali perché la melatonina ricombinante è l'unico principio attivo che va prescritto dal medico però va ricomposti a base di melatonina quindi o se avete la possibilità di parlare col vostro medico a proposito della melatonina ricombinante a rilascio modificato oppure potete diciamo quindi consultate il vostro medico a riguardo che forse è comunque la cosa migliore perché comunque adesso le materializzate sono fattibili anche senza promemoria comunque ristabilite i ritmi del sonno per fare ciò vanno anche messi in atto alcuni cosiddetti rituali del sonno quindi cercate di lavorare nella stanza dove dormite cercate di venirvi incontro come famiglia nel senso che immagino che alcuni dei vostri bimbi dormano con voi per cui vabbè in questo momento non è il momento di cambiare abitudini in casa però cercate di fare in modo che dopo una certa ora che siano le 10 di sera si inizi diciamo a parlare a un volume molto più basso che le luci in casa inizieranno ad essere soffuse e calde e si spengano i vari dispositivi vuol dire togliete i dati la whatsapp lasciate il telefono eventualmente acceso tanto per le chiamate urgenti i dati sono per le chiamate urgenti spegnete i computer fate in modo che ci sia appunto un luogo della casa dove si può un po' rallentare quindi per cercare appunto di di fare in modo che proprio arrivate anche solo nella stanza da letto ci sia solo la stanza da letto non ci siano giochi non ci sia tv accesa non ci siano computer in cui si lavora si guarda i film quindi zone organizzazione anche dell'ambiente domestico esatto e quindi mangiare vuol dire che se per caso siete nella fase un po' di down non non strafate cioè alcuni magari si sono messi a cucinare il pranzo di Natale tutti i giorni quindi non dovete strafare dovete cercare di avere abitudini alimentari sani sane cercando magari di predileggere dei cibri con diciamo non particolarmente elaborati poco ricchi di grassi che comunque sono cose che fanno anche fatica ad essere digerite quindi possono disturbare anche il sonno però di avere un'alimentazione sana e continua vuol dire almeno tre pasti al giorno sia voi che i vostri figli cercando di limitare le abbuffate nel senso che è normale che il bimbo vi chieda di fare merenda perché magari è più stressato voi in questo caso con dolcezza e fermezza doveste cercare un pochettino di limitare le merende e cercare di sostituire le merendine con delle merende un po' più sane quindi vuol dire un frutto al posto della merendina magari i dolci soltanto la mattina di modo tale che le abitudini siano un po' più regolarizzate e bere anche molto perché questo idratarsi diminuisce la durata delle somatizzazioni quindi la durata del mal di testa perché un altro tipo di somatizzazione di cui ho parlato prima è anche il mal di testa e chi è affetto l'emicrania potrebbe avere delle esacerbazioni in questo periodo ma anche così come reflusso meteorismo comunque bere idratare è importantissimo anche perché ci si muove di meno in questo periodo quindi assumiamo troppe calorie magari esatto e poi cercare questa è la seconda cosa di cui volevo parlare di fare dello sport moderato in casa adesso è pieno di applicazioni è pieno di streaming di varie associazioni palestre dirette free gratuite su Instagram programmi ci sono anche libri da scaricare le applicazioni siamo stati un po' anche bombardati no? c'è stata questa infodemia di informazioni perché sono cominciate dirette Instagram e corsi gratuiti per tutti per questo forse anche una dieta mediatica è consigliabile sì in questo caso sì e poi vabbè insomma io ho una grande passione per noi yoga lo insegno anche un pochettino quindi penso che lo yoga sicuramente se avete la possibilità di avvicinarvi vi siete già avvicinati a questo tipo di disciplina è sicuramente molto efficace per cui qualsiasi tipo di pratica che sia dalle più leggere quindi di tipo ata lieve ma anche proprio raja quindi più meditativi in cui si concentra di più sull'aspetto più spirituale sono in questo momento da essere predilette perché è un momento proprio di di rallentamento dello stress e ci sono proprio evidenze scientifiche che questo tipo di discipline quindi quelle orientali anche il tai chi per esempio abbiano un effetto benefico anche sull'abbassamento di quello che è il tono simpatico che è proprio il sistema simpatico a discapito del nome è proprio quello che è più attivo nei momenti di stress e invece questo tipo di discipline abbassano questo sistema l'attivazione di questo sistema a favore il sistema parasimpatico che invece è quel sistema nervoso che ci consente di vivere tutti i giorni e di fare le nostre attività in maniera del tutto automatica e inconscia quindi quindi sicuramente pensavo su bambini come appunto i bambini che hanno una disabilità di parale cerebrale infantile abbiamo visto che è anche frequente sviluppare l'epilessia e quindi magari alcuni fattori di stress possono essere anche fattori di rischio per emergenza di crisi bravissima esattamente quindi soprattutto anche per questo tipo di problematiche quindi anche per le crisi epilettiche è vero che sintomi di stress acuto si possono ripropotere anche in maniera negativa su malattie in cronico magari si venti da tanto tempo per cui ad esempio anche le crisi epilettiche in momenti di stress possono essere più facilmente scatenabili questo perché il simpatico abbassa la soglia epilettogena quindi tutto il sistema simpatico mette in atto di meccanismi a livello neuronale che diminuiscono la soglia epilettogena quindi chiaramente simpatico poco per niente esatto quindi diciamo che ovviamente noi non possiamo prevenire tutto non possiamo controllare tutto è uno degli esercizi da fare anche immaginare di abbassare il controllo perché in questo periodo non siamo in grado di controllare la situazione che c'è fuori ai nostri casi quindi abbassare il controllo però dei piccoli accorgimenti potrebbero essere utili per prevenire questo tipo di situazioni quindi un'altra cosa che potreste trovare ad affrontare appunto è che magari i bimbi che sono in terapia epilettica potrebbero avere un episodio critico oppure potrebbero anche avere delle pseudocrisi cioè potrebbero anche non avere delle crisi ma avere la sensazione di averne e quindi mettere in atto una serie di comportamenti che che mimano una crisi epilettica questo è tipico nei bambini no? in alcune patologie cioè sviluppare ogni tanto dei fenomeni in cui pensi di avere la crisi ma in realtà non l'hai così vale anche per i soggetti asmatici in altri tipi di situazioni anche quello è un meccanismo di difesa cioè come dire sì questo è un meccanismo un altro tipo di diciamo un'altra manifestazione di una sì è un aspetto è un po' più arcaico di difesa diciamo perché comunque in quel momento poi veniamo accuditi però insomma un modo un po' strano di richiedere attenzioni ecco sì ma non si è consapevole di farlo per quello ovviamente però bene senti abbiamo trattato tantissimi argomenti dici tu se per chiudere volevi ricordare qualche altra raccomandazione altrimenti Sara ci ha promesso e ce l'ha detto all'inizio che è un appassionata di mente e corpo ci ha detto adesso anche di yoga quindi ci farà un video che ci aiuterà anche nel passare le giornate lo inseriremo all'interno di queste risorse gratuite che abbiamo costruito per i genitori all'interno di quest'area del sito di Fed Stroke che si chiama proprio Fight the Virus quindi volentieri approfitteremo di questo contenuto di Sara dici tu è quasi pronto niente per chiudere io ci tenevo semplicemente a dire questa cosa cioè che è un momento difficile per tutti ma bisogna ricordarsi che la vita è sempre problematica e che quindi siamo sempre prosti davanti a delle sfide e non sono mai sfide che non sono commisurabili ai nostri sforzi quindi siamo tutti in grado di poterla gestire e dobbiamo ricordarci che le cose non sono mai uguali a prima e che non ci si bagna mai nello stesso fiume quindi non pensiamo al passato ma pensiamo al presente godiamoci quello che abbiamo c'è quindi la possibilità anche di stare insieme alle persone a cui vogliamo bene se ci possiamo stare o comunque di poter avere un po' più di tempo per noi in questo momento e di prenderla come un'opportunità per crescere tutti quanti bellissimo bellissimo messaggio grazie ancora Sara allora noi ti salutiamo qui poi sappiamo che Sara la rivedremo anche su un progetto che stiamo portando avanti insieme noi con il Gas League che è il progetto che si chiama Bottom che è questo chat questo chatbot questo agente conversazionale che aiuta le famiglie a comunicare meglio con gli operatori sanitari proprio in questi giorni ci dicevamo con Sara avercelo avuto adesso ci avrebbe permesso lo stesso di mantenere le distanze ma di continuare con il flusso di comunicazione comunque continuiamo lo stesso diciamo che la tecnologia ci sta aiutando senti Sara grazie ancora da parte di tutti noi buon lavoro a tutto il team del centro Stroke Gaslini e poi ci riaggiorniamo sempre su questi schermi va bene grazie a voi Sara Francesca ciao ciao Franci sei ancora lì grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti